Buonasera a tutte e tutti, Martina ha già anticipato quella che è il tema, la tematica della prossima presentazione, intanto ringrazio Valerio e Filosottile per essere qui con noi questa sera. Se vi va bene, se non segue, edito da Allegre, è la biografia di Valerio Minnella, basata su tre anni di conversazioni che Valerio ha avuto con Filosottile e con Vuming. È una lettura coinvolgente, una lettura che ti prende sin dalle prime pagine, parlavamo prima di iniziare di quanto all'interno di questo libro ci siano tematiche da approfondire, da sviscerare, che veramente ci vorrebbero ore di discussione. Definire Valerio come persona è davvero difficile, perché in queste 300 pagine si vanno a sviscerare gli aspetti più diversi della sua vita. Mi piace iniziare da una parte del libro in cui leggo testualmente, dici che da quando mi sono reso conto che l'uomo è un animale sociale, che il nostro futuro è strettamente connesso alla nostra capacità di lavorare e crescere insieme, sicuramente molto di questa consapevolezza è da attribuire anche alla mia esperienza scout, quindi tra le tante cose c'è anche questa, ho sempre cercato di essere un elemento attivo di questa società. Questo per me ha voluto dire anche impegnarmi attivamente sul fronte politico, anche se con i miei tempi e con i miei modi. Come diceva Martina ci sono tanti eventi che hanno caratterizzato la tua vita, alcuni di questi li andremo proprio a raccontare questa sera, l'esperienza non violenta per l'obiezione di coscienza, l'esperienza del servizio civile dell'ex manicomio di Trieste, l'esperienza fondamentale di Radio Alice. La prima domanda che vi voglio fare dopo questa mia breve introduzione è quella di come è nata l'idea di questo libro, come è avvenuta anche la conoscenza con Filo e con Vuming 1 e quando avete deciso che fosse il momento di raccogliere la vita di Valerio in una vera e propria biografia? Allora, grazie, grazie di essere qui, grazie di avermi invitato. Diciamo subito che l'idea, il colpevole di questa biografia non sono io, è Vuming 1 che non c'è stasera con noi, l'idea è tutta sua, a me non era venuto assolutamente in mente di fare una cosa di questo genere, anzi mi sembrava un po' bruttino, tant'è vero che all'inizio, la prima volta gli ho detto no, non se ne parla nemmeno perché mi sembra che parlare di me sia una roba brutta e poi invece mi sono fatto convincere e ho capito che parlare di me non era parlare di me, parlare di me dovrebbe essere, nei nostri desiderati, raccontare 50 anni di esperienze di attivismo di cui molto non è raccontato. Ci sono esperienze tipo quella della Valle del Belice, tipo Radio Alice per certi aspetti e così via che non si conoscono e invece sono esperienze che ha senso raccontare perché possono mostrare modi di approcciare le cose diversi fuori dagli schemi e quindi non è, è una biografia ma la biografia è una scusa, la ragione vera del libro è parlare di queste esperienze. Lascio a filo però il raccontare come l'abbiamo fatto. Grazie, ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Passo a parlare della modalità di lavoro che abbiamo scelto, allora io sono una collaboratrice esterna abbastanza di lunga data del collettivo Vuming nel senso che nel corso degli anni a partire dal 2011 ho fatto un po' di lavori di bassa manovalanza letteraria, trascrizioni, riscontri in archivio, questo tipo di cose per alcuni dei libri precedenti del collettivo, soprattutto di alcuni libri di Vuming Uno. Per cui sono stata per questa ragione coinvolta anche in questa impresa nella trascrizione delle conversazioni, molte conversazioni che Vuming Uno ha avuto con Valerio a partire dall'estate del 2020. Molte ore di conversazioni che io non solo ho trascritto ma ho chiusato, commentato e fatto riscontri in archivio. Come diceva Valerio, l'importanza di questa, cioè ci è sembrato, è sembrato a Roberto Vuming Uno e poi insomma tutto il terzetto che questa storia valesse la pena che fosse raccontata perché appunto attraversa 50 anni di lotte, di lotte che forse non possiamo dire hanno vinto però hanno avuto riscontri positivi e che si sono attestate e hanno cambiato, hanno inciso davvero nella vita reale delle persone di questo territorio, di questa nazione. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato appunto in questo modo. Loro due territorialmente sono vicini, stanno a Bologna o comunque nel bolognese e io invece sto a nord ovest in provincia di Torino e per cui ricevevo le registrazioni mano a mano le trascrivevo, le chiusavo, facevo degli appunti, integravo con delle domande le domande che a me venivano in mente mentre trascrivevo e per cui in qualche modo a un certo punto la mia voce e le mie osservazioni sono state integrate in un flusso che è dialogico e il libro è strutturato come una chiacchierata fra persone amiche davanti a un fuoco una sera e ci sono racconti, ci sono molte divagazioni, ci sono molte considerazioni politiche. E' un dialogo ed è un dialogo anche, è un dialogo che è stato costruito per cui non è reale, non è il dialogo reale ed è un dialogo anche in qualche modo romanzesco perché fra le voci che intervengono c'è la voce di Radio Alice per esempio che interviene e dice la sua proprio come se fosse un personaggio anche perché poi Valerio lo può confermare quando arriveremo a parlarne nessuno allora la chiamava Radio Alice, tutti parlavano di Alice, come se fosse una persona o comunque un'entità viva e quindi questa è stata la modalità di lavoro. Nel momento in cui ci siamo chiesti su quale poteva essere la resa formale di tutto questo lavoro ci è sembrato che la cosa più naturale e più sensata fosse appunto quella di renderla in maniera dialogica come se fosse una lunghissima chiacchierata. Tra persone amiche tra l'altro di tre generazioni diverse, Valeria del 50, Vomingune del 70, io del 78 per cui con esperienze diverse e abbiamo attraversato fasi di lotta diverse però con anche alcuni tratti in comune per cui questa cosa ha reso più ricco e più articolato il lavoro. Parliamo quindi di Alice, il titolo del libro Se vi va bene, bene, se non segue si deve proprio ad una frase da te pronunciata durante una diretta radio di quel che ormai è diventato famoso 12 marzo 77 il giorno prima a Bologna fu ucciso Francesco Lorusso il 12 marzo appunto durante quella diretta radiofonica di Radio Alice cambiano come dire un po' le carte in tavola per quella che è anche l'esperienza della radio stessa che fu la prima radio indipendente ed era una radio particolare vorrei proprio che ci raccontassi come è nata l'idea di Radio Alice quali erano le caratteristiche di questa radio e di quello che è successo in quei due giorni tristemente noti dell'11 e del 12 marzo 77 a Bologna domanda semplice Sì, io quando mi chiedono di parlare di Radio Alice la prima cosa che dico, te lo accennavo anche prima è che Radio Alice non era una radio Radio Alice non era una radio perché una radio è uno strumento di comunicazione monodirezionale Radio Sherwood, per prenderne una a caso ha un microfono in cui c'è un parlatore e n ascoltatori e il problema di Radio Sherwood come di ogni radio al mondo è quello di guadagnare ascoltatori cioè se oggi ti ascoltano in mille domani si spera che ti ascoltino in duemila e così via e questo vale per un libro vale per una tv vale per tutto quando noi nel 75 lavoriamo per costruire Radio Alice ci poniamo un problema completamente diverso non ce ne frega niente di guadagnare un ascoltatore non ci interessa avere più persone che ascoltano quello che abbiamo da dire noi a noi interessa guadagnare parlatori cioè ci interessa rovesciare il paradigma tenete presente che non c'erano i social nel 75 non è qualsiasi tipo di comunicazione di massa era monodirezionale da un centro verso dei fruitori noi ci poniamo il problema di rovesciare tutto il discorso e qui devo stringerlo farò molto stretto possiamo dire che noi individuiamo tre elementi che servono a far sì che uno si decida a parlare dentro un microfono perché oggi siamo abituati ma allora quasi 50 anni fa non era semplice dire a una persona vieni parla davanti al mio microfono per guadagnare parlatori noi dobbiamo rompere una serie di tabù che oggi fanno ridere ma che allora c'erano ed erano fortissimi il primo è il linguaggio il primo è il per parlare in una radio allora uno che doveva parlare in Rai doveva essere un fine dicitore non poteva avere un difetto di pronuncia come ho io alla Rai passava proprio un esame di fine dicitore non poteva avere infressioni dialettali doveva sapere coniugare il congiuntivo ovviamente non doveva dire parolacce le bestemmie e così via allora oggi è normalità tutto questo ma allora no quindi la prima cosa che noi decidiamo è che a Radio Alice si parlerà con il linguaggio della strada con lo stesso modo di parlare con cui parli col tuo amico col tuo compagno di lavoro e così via perché nessuno si deve sentire inadatto a parlare la seconda censura che vogliamo fare cadere è quella del palinsesto anche a Radio Sherwood ci sarà una certa ora in cui c'è il giornale radio ci sarà un momento della giornata che è dedicato alla musica un momento della giornata che è dedicato a un libro e c'è una struttura una serie di scatole che inscatolano i contenuti Radio Alice è per scelta l'unica radio al mondo che non ha una struttura un palinsesto chiunque può trasmettere quello che gli pare quando gli pare come gli pare non c'è non ci sono tempi non ci sono luoghi dati quindi io non debbo entrare in radio e chiedere a una qualche tipo di gerarchia posso trasmettere adesso? no adesso non puoi perché trasmette Davide ma allora vengo domani no domani c'è filo c'è una gerarchia qualcuno entra in radio e non si sente proprietario della radio senza palinsesto questa gerarchia non c'è io entro dentro se il microfono è occupato mi siedo di fianco a quello che già trasmette e proseguo con lui qualsiasi trasmissione è lasciata alla libertà di chi trasmette la radio è sua la terza censura e così arriviamo anche a parlare dell'undice e del dodici marzo che noi individuiamo è il luogo fisico non esiste radio in cui tu per parlare per raggiungere il microfono non debba passare una porta a radio dice non solo non esiste la serratura sulla porta per mesi ma noi facciamo una cosa che allora 1976 perché la radio apre nel 76 non aveva mai tentato nessuno colleghiamo il telefono in maniera strutturale al mixer questo vuol dire che per trasmettere non c'è neanche più bisogno di varicare la porta io posso trasmettere da casa mia alzo il telefono e dico mi metti in onda e il compagno che è lì mi mette in onda e trasmetto da casa trasmetto dalla cabina del telefono perché allora tanti non avevano neanche il telefono in casa e andavano a telefonare nelle cabine con i gettoni questo rompe l'ultima censura quella definitiva per parlare non debbo essere neanche presente noi vinciamo la nostra scommessa nel giro di un mese la radio il gruppo fondatore della radio si trova completamente espropriato della radio stessa migliaia non scherzo migliaia di persone vengono in radio a trasmettere chi per una volta per cinque minuti chi perché ne ha voglia tutti i giorni a una certa ora con un certo tipo di trasmissione ben definita ma senza nessuno che dica tu puoi tu non puoi tu puoi solo se trasmetti in questa maniera puoi solo se trasmetti in quest'altra maniera vinciamo migliaia di persone diventano parlatori e abbiamo anche decine di migliaia di persone che ascoltano ma non si sa dove comincia il parlatore e dove comincia l'ascoltatore perché chiunque può partecipare e in gran parte partecipa alla trasmissione alla vita di Alice cosa suggenera questo fatto genera un problema particolare la parola la parola che interviene nel momento stesso in cui succede qualcosa in cui c'è un'azione genera l'azione genera l'azione modifica l'azione modifica il fatto banalmente voi pensate che adesso siamo abituatissimi che stiamo parlando c'è qualcuno che sta vedendo perché va in diretta streaming in Giappone quello che stiamo facendo qui lo sta vedendo in Giappone lo sta vedendo nella casa di fianco perché tanto non lo sappiamo a che parte lo vede voi siete qui col cellulare postate qualcosa sul social lo vedono in Giappone lo vedono in Sud America lo vedono nella casa di fianco istantaneamente ma negli anni 70 non esisteva la trasmissione indiretta non esisteva nessun tipo di trasmissione indiretta qualsiasi cosa andasse in Rai veniva prima registrata tagliata e poi messa in onda noi facciamo la trasmissione indiretta non come tutte le radio semplicemente perché trasmettiamo da davanti al microfono direttamente senza registrare ma perché abbiamo attaccato il telefono questo vuol dire che l'11 marzo la polizia assassina Francesco Lorusso a Bologna è una roba che ci sconvolge perché per noi è un fratello anche se io personalmente Francesco non lo conoscevo sì di vista ma non ci frequentavamo però per tutti noi era comunque un fratello è una roba che ci colpisce di brutto la città la città universitaria il movimento studentesco il movimento giovanile si rivolta e Bologna viene presa d'assalto parte nel giro di due ore un corteo enorme di persone che tentano l'assalto alla sede della democrazia cristiana partono gli scontri con la polizia tutto il quartiere universitario viene barricato ci sono le barricate sulle strade barricate che Cossiga abbatterà con i mezzi blindati è l'unica volta in Europa da quando da dopo la guerra che i mezzi blindati entrano in città per reprimere una protesta l'unica volta ovviamente questa cosa va avanti ovviamente che cosa succede che esiste Radio Alice cosa fanno le persone che sono nel quartiere universitario che seguono le manifestazioni entrano nella cabina del telefono mettono dentro il gettone e dicono vedo questo vedo quest'altro vedo la polizia che avanza per questa strada vedo i compagni che si ritirano per quell'altra strada ma tanti compagni hanno la radio in tasca in tanti bar c'è Radio Alice accesa nelle auro universitarie c'è Radio Alice accesa nelle case private che si affacciano sulle strade c'è Radio Alice accesa ecco che l'informazione data nel momento in cui l'evento succede succede questo modifica l'evento perché io so che la polizia si muove di qua ovviamente mi sposto di là l'informazione modifica il fatto è per questa ragione che il giorno 12 cioè il giorno dopo la morte di Francesco la polizia viene in radio e ci chiude ci chiude e ci arresta l'accusa è che noi abbiamo diretto gli scontri ma non è vero noi non abbiamo diretto nessuno scontro noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto tutto l'anno precedente abbiamo messo in diretta chi voleva parlare è il fatto stesso che modifica l'evento ma è con questa scusa che ci arresteranno ci sono 20 persone in radio in quel momento la maggioranza scappa per i tetti rimaniamo in quattro in radio rimaniamo in quattro e io e mio fratello che era venuto a darmi una mano perché noi siamo i tecnici e i tecnici non abbandonano mai le attrezzature e altri due compagni che era la prima volta che entravano in radio perché appunto in radio c'era questo flusso va e viene di persone e non se la sentono di scappare per i tetti di notte siamo lì e aspettiamo che la polizia sfondi la porta nel frattempo avevamo riparato la serratura e entri ma non ci fidiamo perché questi sono bardati pazzescamente cioè hanno i giubbotti antiproiettili in mitra queste cose oggi siamo abituati alle SWOT nei telefilm nei film tutti con i giubbetti antiproiettili cose di questo genere negli anni settanta non li avevamo viste mai non li avevamo visti mai e io li avevo visti per la prima volta in un film il caso Catarina Blum un mese prima è una roba che ci sconvolge perché che arrivasse la polizia sì ma che arrivasse con i mitra con i giubbetti antiproiettili l'idea che io ho in testa è che entreranno dentro e ci ammazzeranno tutti come era stato per la radio degli studenti universitari ad Atene quando ci fu il gol per i colonnelli ed è così che decidiamo di continuare in diretta a raccontare quello che succede a dire siamo qui con le mani in alto siamo qui con le mani in alto perché che si sappia che quando ci ammazzeranno abbiamo le mani in alto ci avrebbero poi ammazzato non lo so non abbiamo avuto modo di provare grazie ma pensare che ci avrebbero potuto ammazzare non è una cosa che pensiamo solo noi siamo in quattro in radio ma c'è un quinto compagno che viene per via il fratello la strada della radio vede il camionetto della polizia corre su per le scale per raccontarci che c'è la polizia di sotto non sa che la polizia è già su che gli punta la pistola contro e e quindi viene arrestato anche lui ma la cosa interessante è che un minuto dopo che lui è lì sale traferato un tenentino della polizia o dei carabinieri non mi ricordo più che dice non sparate non sparate sono in diretta non l'abbiamo pensato solo noi che potevano sparare l'hanno pensato anche i polizi auti stessi grazie Valerio legato a quella che è stata l'esperienza di Radio Alice ma anche legata ad altre esperienze di cui faremo un accenno successivamente si parla di un di un concetto che di un altro dei tanti concetti che noi sta molto a cuore che è quello della della proprietà intellettuale cito testualmente nel libro dove si dice non esiste la creazione originale ogni prodotto culturale poggia su di un substrato di cultura che ti è stato fornito più o meno gratuitamente dalla società in cui vivi e senza la quale non avresti prodotto ciò che hai il prodotto il problema della proprietà intellettuale è un problema molto attuale chi fa comunicazione chi fa radio oggi lo vive per esempio con con la CIAE ma in generale quanto è complesso fare oggi cultura vivere all'interno del mondo della cultura e fare i conti con la proprietà intellettuale e fare i conti con chi poi sulla proprietà intellettuale ha tendenzialmente lucrato dico due battute veloci e poi passo la palla a Valerio io sono cresciuta all'interno del movimento delle punk band torinesi degli anni 90 anzi punk band torinesi di provincia per cui sono cresciuta in quel mondo in quel mondo lì e in quel modo lì dell'autogestione dell'autoproduzione e per cui da una parte c'è il rifiuto che ci sia qualcuno che sul tuo lavoro ci metta dei balzelli o ci lucri o insomma ti ti dica se il tuo prodotto è vendibile o non è vendibile va bene o non va bene a un mercato o non a un mercato perché il concetto da cui partivo partivamo era quello che ci interessava comunicare e ci interessava soprattutto entrare in contatto con le persone come noi cantare il nostro quartiere cantare la nostra gente andare in giro farci conoscere ma il punto non era diventare famoso o farci del denaro il punto era l'urgenza di comunicare io ho continuato a imbrattare carte a calcare palchi non mi sento un artista anche se insomma potrei accollarmi questa cosa mi sento una traduttrice mi sento una persona che recupera materiale mitico narrativo che è già stato masticato da altre persone prima di me o al mio stesso tempo ma altrove o da altre prospettive e per cui il lavoro che faccio è un lavoro che vorrei che fosse riconosciuto ma che non sento che sia originale perché non credo che esista un lavoro originale e come cercare la ricetta originale della pasta al pesto non esiste il pesto è l'unione di alcuni ingredienti disponibili in un determinato territorio e che poi ogni persona ogni famiglia reinterpreta funziona così anche per il materiale artistico quello che va riconosciuto è il lavoro che si fa e non l'originalità e la proprietà per cui io non ho risposte se non quelle appunto del continuare nell'autoproduzione e nel continuare a ragionare su come collettivizzare e rendere il più accessibile possibile tutti i materiali documentali e artistici il mio mestiere vero cioè nel senso il mio mestiere normale mettiamolo così è quello di bibliotecaria me lo sono scelta apposta perché volevo stare in un posto in cui chiunque potesse entrare per leggere un libro accedere a un documento o anche solo per poter dormire e riscaldarsi perché la cultura serve anche a quello e i luoghi di cultura servono anche a quello a stare insieme ma sì la proprietà intellettuale ha un problema solo come fare a remunerare il tempo speso da chi ha prodotto perché è indubbio che ci va tanto lavoro per produrre qualcosa tanto lavoro per produrre il suono giusto tanto lavoro per mettere la parola giusta nel posto giusto e per cogliere l'immagine giusta e in alcuni casi questo lo riesci a remunerare abbastanza bene perché hai un prodotto vendibile come prodotto per dire un concerto io remunero il tempo che l'artista il musicista passa sul palco ma un'idea lanciata in un'intervista che in fondo è proprietà intellettuale uno scritto sul social non è remunerabile eppure fanno parte della nostra proprietà intellettuale il giorno in cui riusciremo a disgiungere la remunerazione della proprietà intellettuale dal prodotto che viene elargito avremo risolto il problema oggi la vedo dura grazie la tua vita come dicevo all'inizio è caratterizzata da da esperienze che possono sembrare a primo acchitto diverse ma che comunque come stiamo iniziando a vedere hanno tutte un filo comune fondamentale da quello che si evince nel libro è l'esperienza dell'antimilitarismo e l'esperienza di tutta quella battaglia per l'obiezione di coscienza è quella esperienza soprattutto che si è svolta nella valle del Belice un'esperienza caratterizzata da distruzione materiale rispetto a quello che era successo ma faccio riferimento ovviamente al terremoto che ha distrutto quella valle l'esperienza quindi di non violenta di disobbedire a un diktat che era quello di andare a fare il servizio militare che oggi per le generazioni attuali è un qualcosa di lontano anche se ogni tanto qualcuno lo rimette sul piatto come fondamentale per far crescere gli uomini che devono difendere la nostra patria quando parli dell'esperienza appunto della lotta del Belice dell'esperienza per l'obiezione di coscienza fai anche riferimento a come quelle battaglie hanno tanto in comune rispetto alle battaglie che oggi ci sono si fa riferimento una tra tutte alla lotta dove ognuno mette in campo i propri i propri corpi per per difendere un territorio per difendere quella che è la propria libertà ecco mi piacerebbe che ci parlassi di quella di quella che è stata l'esperienza del Belice e dell'esperienza dell'obiezione di coscienza magari io racconto più sull'obiezione di coscienza e l'antimilitarismo poi faccio raccontare a chi non lo sa chi non conosce i fatti un pochino di quello che è stata la lotta del Belice o del Belice c'era la doppia distione e a filo allora per noi vecchi qualche faccia attempata la vedo per noi vecchi il problema del servizio militare vecchi maschi era un problema molto serio tutti sapevamo che a vent'anni ci avrebbero rubato un anno o due della nostra vita per una attività imbecille e inutile che era il servizio militare obbligatorio la NAIA una roba che per il maschio era importante sapevi che questa cosa sarebbe successa se non avevi la fortuna di riuscire a farti riformare alla visita medica avresti dovuto fare questo servizio io decido vabbè nel libro racconto che matura una coscienza non violenta e quindi un metodo politico non violento e decido che io non andrò a fare il servizio militare il servizio militare fino al 70 che è l'anno in cui devo presentarmi io era stata un'azione individuale era un singolo perdono scusate la testa c'è qualche buco il database il servizio di coscienza non il servizio militare fino a quel momento è sempre stata un'azione individuale bellissima una testimonianza splendida ma di cui la maggioranza delle persone non aveva notizia perché faceva fatica a uscire dalle quattro mura della caserma dove le persone entravano e dicevano io la divisa non me la metto mettetemi pure in galera bellissima esperienza ma non se ne sapeva nulla nel 70 io incontro la marcia antimilitarista Milano Vicenza incontro tutta una serie di personaggi era una marcia organizzata allora dai radicali dal gruppo non violento di Perugia dal movimento non violento di Perugia io incontro un sacco di persone bellissime a questa marcia fra cui un gruppo di un gruppo di valsusini visto che parlavi della lotta notav che ritroverò poi quando mi occuperò di notav 50 anni dopo e non sarò per nulla meravigliato di trovare le stesse persone anche e trovo un gruppo di giovani della valle del Belice nella valle del Belice io ce l'ho già stato nel 69 a fare un po' di servizio con gli scout per la ricostruzione del post terremoto quindi un po' la situazione la conosco mi dicono vieni con noi in valle vuoi fare l'obiezione di coscienza diventa uno di noi viene a darci la mano a organizzare l'obiezione perché noi vogliamo fare sì che nessun giovane della valle del Belice vada vada a fare il militare ma che faccia il servizio civile per la ricostruzione e effettivamente io ci vado ci vado giù vado giù io viene giù con me Nando Paganoni di Bergamo viene giù Franco Suriano di Roma e in tre obiettori andiamo a dare una mano a questo discorso qua lì trovo una situazione difficilmente raccontabile di solidarietà di azione dal basso attuata dalla popolazione aiutata da un centro studio e iniziative che era un gruppo di persone intellettuali potremmo dire architetti sociologi e così via che aiutano coordinano tutto questo tipo di azione in valle è un gruppo fuoriuscito dal centro studio iniziative di Danilo Dolci che è uno dei nomi più famosi quando si parla della cultura non violenta in Italia in Italia poi in verità lo conoscono pochi era molto conosciuto all'estero al solito al nord Europa ma ha prodotto un sacco di cose interessanti dopo vi faccio raccontare un attimo da filo che cosa è stata la lotta del Belice comunque io giuro lavoro con loro vengo cooptato come fossi nato lì fossi sempre vissuto lì e con loro facciamo tutta una serie di cose interessanti portiamo mille persone in piazza Montecitorio a Roma ci accampiamo in piazza Montecitorio pensate una settimana accampate in piazza Montecitorio non c'è mai stata un'altra cosa di questo genere in Italia neanche potete avvicinarvi oggi a piazza Montecitorio allora invece sì allora c'era la possibilità di interlocuire con i politici ci riceve ad esempio Pertini che allora era presidente della Camera non era ancora presidente della Repubblica facciamo tutta una serie di azioni molto importanti sul libro ne racconto abbastanza e riusciamo a ottenere effettivamente la legge sul servizio civile per i giovani del Belice è una legge microscopica perché riguarda poche decine di giovani di giovani all'anno limitatissime in un territorio però è la prima legge che scardina la logica che dicevi tu la logica del fare il militare serve a diventare uomo fare il militare è un servizio indispensabile per la nazione e così via per la prima volta si può dire no si può fare qualcosa di più utile di più importante di più intelligente che non fare il militare da lì ci rendiamo conto che l'obiezione di coscienza fatta dai nostri predecessori aveva questo limite dell'individualità di cui dicevo prima e io Nando è franco decidiamo di non procedere così ma di cambiare paradigma cambiare logica e decidiamo di muoverci collettivamente non più come singoli soli nella caserma ma come gruppo non più dentro una caserma dentro quattro mura ma essere arrestati all'esterno quindi avere maggiore visibilità essere accompagnati nella nostra incarcerazione tanto che nel 72 ad esempio ci facciamo incarcerare proprio a Torino con centinaia di persone dietro che ci accompagnano alla caserma dei carabinieri il racconto è anche divertente come è fatto perché ci chiedono ma oggi non potreste tornare domani siamo venuti qua a farci arrestare non potreste tornare domani non ha senso ecco noi decidiamo di fare un'azione di gruppo cominciamo a chiedere chi altro in Italia è interessato e tanti che sarebbero interessati ma che forse da solo avrebbero fatto fatica a fare un'azione che riportava in carcere volontariamente e dicono beh allora se lo fate voi lo faccio anch'io perché non mi sento più solo quindi ci riuniamo a gennaio del 71 a Milano in un sottotetto che chiamiamo il Abbaino da cui il nome è collettivo Abbaino in otto obiettori di coscienza in otto firmiamo un unico documento politico che va bene a tutti provenendo da esperienze completamente diverse ed è questa una delle cifre che io rivendico abbastanza nel libro cioè di non aver mai fatto lotte settarie perché fra di noi ci sono io che sono come dico nel libro come dico un anarchico del cazzo sì c'è chi è di derivazione marxista c'è chi viene dal mondo cattolico e così via no? E però riusciamo a muoverci insieme non c'è differenza fra noi non c'è settarismo e siamo in otto allo scaglione successivo siamo praticamente raddoppiati allo scaglione successivo siamo autoriplicati e così via questo è il meccanismo che permette all'obiezione di coscienza di attecchire perché ci sono centinaia di persone nel 72 pronte a fare obiezione di coscienza ed è per questo che a dicembre del 72 esce la legge su obiezione di coscienza sul servizio civile che per anni dopo permetterà ai giovani di rifiutare la naia di rifiutare i militari e fra l'altro secondo me è interessante un dato perché a uno non si rende conto di giovani che scelgono il servizio civile al posto del servizio militare negli anni successivi non ce ne sono due non ce ne sono cinquanta non ce ne sono cento ce ne sono ottocentomila ottocentomila cioè abbiamo cambiato la vita di ottocentomila persone non solo il servizio civile prosegue anche dopo che il servizio militare viene abolito per cui tuttora oggi c'è chi fa servizio civile mette il suo corpo a disposizione per un anno uomini e donne nel senso che adesso anche le ragazze possono fare il servizio civile è diventato universale mettono il loro corpo a disposizione della società per un anno praticamente gratuitamente ok e sono ancora cinquanta sessantamila all'anno vuol dire più di un milione di persone che hanno fatto il servizio civile non obbligatorio e questa è una semina che in qualche maniera rivendico ma mi piace molto far parlare più o meno di di cos'era la valle del benizio perché è una lotta assolutamente emblematica tutta fatta dal basso ci vorrebbe veramente una settimana per raccontare questa cosa io invece cerco di sintetizzarla in pochissimi minuti 15 gennaio del 1968 c'è questo terremoto nel Belice Belice è una regione a cavallo fra le province di Trapani Palermo e Agrigento in cui scorrono i due rami del fiume Belice è un territorio depresso economicamente e che viene messo ulteriormente in ginocchio da questo sisma che tra l'altro capita in pieno inverno in un inverno eccezionalmente freddo per la Sicilia perché il 15 gennaio c'era la neve in in Sicilia e ci si aspetta ed è anche un po' quel terremoto e le lotte che ne sono derivate sono ampiamente dimenticate quel poco che è rimasto è di gente che è rimasta confinata nei container per decenni ed è vero ed è in parte vero contemporaneamente invece la storia che va riportata a Galla che va raccontata è quella delle lotte che ci furono in quel territorio lotte che attecchivano in un posto in cui c'era già una mobilitazione in atto nel senso che pochi mesi prima del terremoto il centro studi di Danilo Dolci in coordinamento con altri aveva fatto una lunga marcia da Partanna diciamo nella parte meridionale della provincia di Trapani fino a Palermo 180 chilometri a piedi una settimana di marcia rivendicando insomma una serie di attenzioni e di dispositivi legislativi ed economici per aiutare un territorio che era depresso e tartassato dall'emigrazione cioè a seguito del terremoto si calcola che partirono oltre 60.000 persone cioè una cifra veramente imponente però appunto nel momento in cui c'è il sisma questo territorio ha già un percorso in atto ci sono già delle riflessioni che sono riflessioni antimilitariste perché quella marcia di pochi mesi prima aveva al centro anche la pace in Vietnam e oltre allo sviluppo del territorio uno sviluppo che si chiede regolato dal basso e quindi la prima cosa che viene in mente a questa gente nel momento in cui c'è il terremoto nel momento in cui è passata la passerella è già terminata la passerella dei politici che fanno promesse e che si trovano nelle tendopoli la polizia e l'esercito a governare quello che viene in mente loro è di fare comitati di baracca e di auto-organizzarsi e di dire non siamo qui a farci dire che cosa dobbiamo fare siamo noi che dettiamo la tabella di marcia e per cui si organizzano in una maniera che non è poi molto dissimile a quella che abbiamo visto negli ultimi trentenni in Valsusa nel senso che chi ha un sapere tecnico mette a disposizione il suo sapere tecnico chi ha capacità organizzative mette a disposizione quelle e si fa un lavoro di tessitura collettivo e per cui avvengono nel corso di qualche anno una serie di rivendicazioni e di lotte che hanno successo nel senso che per esempio riescono a organizzare uno sciopero fiscale così determinato così incisivo che ottengono per una serie di anni l'esenzione del pagamento delle imposte per quel territorio perché ogni volta che arrivano le cartelle esattoriali loro dicono tutte queste cose di cui noi abbiamo bisogno non ci sono non sono state fatte sono state promesse e per cui raccolgono le cartelle esattoriali di tutto questo territorio un territorio in cui abitavano circa 90.000 persone e le rimandano indietro a Roma e questa cosa avviene per due o tre volte finché da Roma arriva la legge ok voi non pagate le tasse la stessa cosa avviene quando all'inizio del 1970 ci sono giovani che sono lì che vivono nelle baracche che vorrebbero mettere le loro energie a disposizione della comunità per la ricostruzione che invece devono partire per allora 15 mesi cioè il servizio militare obbligatorio durava 15 mesi per perdere tempo insomma a fare i coglioni con il fucile in mano si organizzano collettivamente e dicono noi qui non partiamo e per cui comincia una propaganda casa per casa praticamente anzi baracca per baracca e capillare che porta a una serie di manifestazioni un concentramento a Palermo davanti al distretto militare in cui si fronteggiano con i carabinieri in quel momento capitanati da quello che poi sarà diventerà più avanti il generale Carlo Alberto dalla Chiesa in cui riescono a ottenere un colloquio a tu per tu con il ministro oddio mi ricordo come si chiama in questo momento non fa niente Tambroni ecco e per cui no da lì era era il giugno del del 1970 attraverso un percorso estremamente radicale arrivano ad ottenere pochi mesi dopo nel novembre del 1970 una legge che esenta tutti i giovani del Belice dal servizio militare obbligatorio ora una cosa che è del motivo per cui esiste questo lavoro esiste questo libro Valerio ha attraversato tutta una serie di lotte estremamente radicali estremamente produttive dal punto di vista dei risultati poi appunto nel libro è spiegato bene la legge del 1972 è una legge di merda piena di problemi contemporaneamente ha permesso a 800.000 persone di evitare il servizio militare la legge che ottengono cioè nessuna delle vittorie delle popolazioni del Belice è definitiva contemporaneamente permette di rendere la comunità più coesa e di dare sollievo dare respiro a una terra e a una popolazione vessata ci sembrava importante raccontare queste lotte perché abbiamo bisogno di attingere dal passato modalità che sono già state sperimentate e che possono essere ricalibrate possono essere riutilizzate nel nostro presente visto che i tempi si fanno molto più bui ieri sera ero atrevisto a fare uno spettacolo parlavo con con un compagno che diceva secondo me quello che stiamo vivendo adesso è molto simile a quello che c'era all'inizio degli anni settanta come momento politico forse io non ci avevo mai pensato però forse non è un'idea un'idea balsana e forse rivangare utilizzando un'espressione di booming disseppellire asce di guerra modalità di lotta per far sì che possiamo uscire dai recinti in cui ci sono gli anarchici gli autonomi il mondo cattolico così e provare a capire su quali temi possiamo lavorare insieme e organizzare cose che funzionano cose che mettono in crisi che mettono in discussione lo status quo è molto importante ed è qui anche il valore di questo lavoro che abbiamo fatto ed è quello che speriamo che possa essere il frutto principale non soltanto la raccolta di tante belle storie grazie ci avviamo verso la conclusione di cose ce ne sarebbero davvero tante da dire però prima di concludere mi piaceva fare un'altra domanda un'altra piccola riflessione su quello che è l'importanza del comunicare oggi quelle che sono non solo le lotte ma quelle che sono i progetti le battaglie che ognuno porta avanti tu nella tua vita hai messo a disposizione le tue le tue competenze per far sì anche che questa comunicazione potesse potesse esserci oggi siamo in una società in cui la comunicazione è immediata la comunicazione è smart riusciamo in maniera molto veloce a comunicare a dire quello che facciamo però il mainstream ancora è in mano a chi vuole veicolare determinati determinati messaggi quanto oggi è è importante utilizzare bene la comunicazione la comunicazione anche politica essere un un media attivista come oggi come oggi lo si definisce tu negli anni 2000 hai utilizzato la comunicazione anche per per dei progetti che in quel periodo erano comunque innovativi e volevano comunicare delle pratiche delle battaglie importanti la comunicazione direi che è il punto focale di qualsiasi momento della società la società esiste nel momento in cui noi comunichiamo uno con l'altro quindi la comunicazione è anche il veicolo principe in tutto quello che è la lotta politica in tutto quello che è l'azione sociale quindi dovrebbe essere sempre il fuoco dei nostri pensieri quando parliamo di azione politica per me la comunicazione è sempre stata fondamentale perché avendo scelto il metodo non violento di lotta la comunicazione è ovviamente il metodo principale è il metodo principale anche quando fai qualcosa di pratico qualcosa di diverso perché per dire qualsiasi azione tu faccia se di quella azione non si ha coscienza il resto del mondo non ne sa nulla quell'azione poi non è vincente perché è vincente solo nel momento in cui sedimenta nelle coscienze nei pensieri degli altri quindi per me è sempre stato importantissimo comunicare quindi nel libro racconto che ho messo in piedi con altri questo giornale antimilitarista se la patria chiama e poi io sono un tecnico elettronico per cui faccio la radio per cui negli anni 2000 invento con altri questa storia delle tv di strada delle tv di quartiere telestreet e così via ma il problema è che la comunicazione cambia il problema è che la comunicazione non esiste come elemento stabile la comunicazione è un elemento vivo che cambia ogni giorno quindi ogni giorno devi capire come devi fare per comunicare nel 78 io compro uno dei primi dieci personal computer che arrivano in Italia perché mi rendo conto che la comunicazione negli anni successivi sarà tramite il computer e poi si è dimostrato non pensavo ancora che avremmo girato con in tasca un computer come giriamo oggi però la comunicazione effettivamente passa dai computer e dall'informatica ma se guardate noi oggi non possiamo dire che difettiamo di comunicazione perché abbiamo una quantità di comunicazione spaventosa che ci sommerge ma non è comunicazione nostra non c'è più nulla di nostro nella comunicazione io sono convinto d'altronde è una teoria fondamentale su cui abbiamo lavorato quando abbiamo creato Radio Alice che Marshall McLuhan avesse assolutamente ragione quando sintetizzato nel suo pensiero diceva che il mezzo è il messaggio è estremamente sintetizzato non è proprio così ma il concetto è vero ora se il mezzo che io utilizzo non è mio neanche quel messaggio è mio questa è una roba estremamente importante noi oggi comunichiamo con mezzi forniti da altri di formati e dimensioni che sono pensati da altri su argomenti che sono inventati in altri luoghi che non si era nostra testa primo discorso il mezzo è così comodo io ho facebook uso facebook no è gratis è lì mi iscrivo dopo 30 secondi io posso produrre un messaggio ma il messaggio che io produco su facebook facebook twitter qualsiasi altro è rinchiuso in un riquadro che qualcuno ha deciso che deve essere fatto così l'ha deciso lui le dimensioni gli spazi di quello che ci sta intorno tutta questa cosa è di un altro ma quando io ciclostilavo negli anni 70 col ciclostile se scrivere la parola in orizzontale o scrivere in verticale o scrivere di traverso in cerchio era una cosa che decidevo io era già il modo di scrivere un modo di comunicare il fatto di metterci un'immagine di un certo tipo in una posizione che non era quella quella data ma era da un'altra parte era già un modo di comunicare era già inviare un messaggio diverso questo valeva per i giornali valeva per qualsiasi cosa e anche quando arrivano i primi siti web ancora posso immaginare quello che l'utente dall'altra parte del vetro vedrà di là dallo specchio direbbe Alice posso immaginarmi che questo rosso colpirà la sua attenzione in maniera diversa che non il bianco che mi permette facebook no ma forse solo il mezzo anche le idee una volta uno scrittore un intellettuale gli veniva in mente di parlare del sesso dei grilli e scriveva un libro scriveva degli articoli sul sesso dei grilli oggi tutti noi possiamo comunicare tutti abbiamo questa possibilità ma non non comunichiamo su quello che ci viene in mente a noi comunichiamo sulle sugli argomenti di cui leggiamo sul social perché in questo momento tutti parlano giustamente della sentenza della corte dell'AIA contro Israele giustissimamente bisogna parlarne per bacco voi che non ne parli anch'io ne parlo anch'io ma intanto ho sottratto la mia mente dal parlare del sesso dei grilli ora il fatto di usare argomenti che non abbiamo pensato noi che non sono nostri che dall'attualità ma magari anche perché veicolati apposta da organizzazioni che si occupano di veicolare argomenti veicolarli con strumenti che non hanno la mia immagine cambiano completamente la mia comunicazione tu prima dicevi i media oggi sono tutti in mano al mainstream non è la cosa importante i media sono sempre stati in mano al mainstream la stampa era di proprietà di Agnelli già cent'anni fa forse cento no ma va bene che è decenni e decenni di anni fa la proprietà degli strumenti di comunicazione è sempre stata in maggioranza dei poteri solo pochi mezzi di comunicazione scappavano fuori ma i pensieri le logiche il modo di raccontare le cose era nostro era di ognuno di noi che aveva un'idea un prodotto culturale da proporre oggi non sono più nostri neanche le idee neanche i mezzi eppure crediamo di essere noi a comunicare questo secondo me è l'elemento su cui dovremmo ragionare di più oggi su come rovesciare il paradigma cambiare i sistemi di comunicazione raccontavo che quando noi abbiamo fatto Radio Alice scusa se rubo un attimo questo minuti abbiamo rovesciato il paradigma tutti avevano sempre pensato di costruire delle radio per acquisire ascoltatori noi pensiamo di costruire una radio per acquisire parlatori bene questo paradigma tu li puoi cambiare ancora oggi sia dal punto di vista delle logiche sia dal punto di vista tecnico nel libro racconto delle tv di strada la tv di strada è un esempio di rovesciamento di paradigma di comunicazione duplice è il rovesciamento della tecnologia noi prendiamo il centralino d'antenna quello che prende il segnale che entra l'antenna e che spara tutto il segnale nelle prese degli appartamenti quella è quella a zenzio lì lo rovesciamo a rovescio cioè lo rovesciamo a rovescio va bene scusa lo giro lo giriamo e facciamo andare il segnale a rovescio per cui prendiamo il segnale del videoregistratore dal computer lo mandiamo al centralino e lo facciamo uscire dall'antenna abbiamo rovesciato tecnologicamente il sistema ma lo rovesciamo dal punto di vista della comunicazione la comunicazione della televisione è trasmettere da lontano su un pubblico enorme vastissimo la nostra televisione è una televisione per quello che si chiama tv di strada che fa 100 metri 200 metri perché copre una strada non di più perché non abbiamo potenza non abbiamo spazio perché stiamo dentro dei coni d'ombra del segnale televisivo e quindi noi non facciamo televisione noi facciamo proxivisione fare proxivisione vuol dire che chi vede la tua tv è quello del pianerottolo di fronte è quello che incontri dal lattaio come tutto il mondo si è preoccupato di arrivare sempre più lontano con il segnale televisivo guadagnare milioni di spettatori e voi fate una televisione che fa 100 metri che vi vedono in 10 si noi abbiamo cambiato il paradigma televisivo perché abbiamo ancora una volta rovesciato chi fa televisione è il tuo vicino non è uno che trasmette da un cratere marziano come può essere Saxarubra no ma è il tuo vicino ma allora se lo fa lui lo posso fare anch'io televisione ma allora se la posso fare anch'io televisione vuol dire che la televisione la può fare qualsiasi imbecille non è più il verbo di Dio che arriva sulla terra la televisione è uno strumento quotidiano d'uso personale cambia il modo proprio di pensare alla televisione questo non vuol dire che il prodotto che farò farà schifo vinciamo due premi giornalismo televisivo Ilari Alpi con le nostre tv che fanno 100 metri una con quella di Bologna a cui partecipo io che era capostipite del refero tv e una con disco volante tv che è fatta a Senigallia e vince il premio Ilari Alpi e ti racconto ancora nel libro raccontato tu l'hai letto ma lo racconto un po' anticipo a loro che cosa vuol dire rovesciare il paradigma televisivo voi avete presente in tv un Anchorman avete presente un presentatore gioco di parole no? di solito una persona una presentatrice di bell'aspetto che parla bene che l'Anchorman di disco volante tv a Senigallia è un compagno sessantenne spastico che vive in carrozzella che sta tutto così parlando in questa maniera cioè la cosa meno televisiva che sia possibile immaginare uno che per ascoltarlo mentre parla devi metterci la tua pazienza perché lui ha i suoi tempi non i dieci secondi dell'inserto televisivo che poi la regia gira la camera no? anche lì disco volante era il cuoco di Radio Alice quello che ha messo su disco volante a Senigallia quello che non ha mai trasmesso una volta Radio Alice ma veniva a Radio Alice cucinava dei piatti di pasta li metteva in mano a chi entrava lui faceva Radio Alice così e fa disco volante con tutte persone che hanno problemi di handicap a Senigallia abbiamo rovesciato il paradigma perché la televisione è lo strumento di comunicazione per le persone di bell'aspetto per le persone che sanno intrattenere e invece facciamo la televisione per persone che di bell'aspetto purtroppo spesso non sono e soprattutto non sanno intrattenere sei tu che devi essere invogliato a guardarle grazie di cose da dire l'avevamo detto all'inizio ce ne sarebbero tantissime le presentazioni incalzano mi piaceva concludere con quella che è la metafora finale del libro si parla di quanto la montagna e il mare siano i posti forse di massima libertà i luoghi dove la libertà la vedi proprio in maniera esponenziale però noi davanti a questi due luoghi infiniti siamo forse delle formiche che dobbiamo stare attenti a muoverci e a evitare di fare qualche cazzata quindi la libertà fondamentale ma altrettanto fondamentale organizzarsi per poter raggiungere quella libertà io vi ringrazio ancora per essere stati qui allo Sharebooks Festival invito tutti ad acquistare perché di cose ancora nel libro ce ne sono tante grazie a tutti e a tutte buona continuazione di serata grazie a tutti grazie grazie a tutti